Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video ragazzi In questo video vi andremo a mostrare come scaricare la beta di Riasciugarsi l'anteprima mondiale Il nuovo gioco della Supercell ragazzi Ok Prima cosa ragazzi Dovrete scaricare questa applicazione qua ragazzi Turbo VPN che la trovate nel Play Store ragazzi Dopo averla scaricata Aprite quest'app Ok E appena vi trovate nella schermata principale di quest'app In alto a destra vi spunterà tipo una specie di mappa mondo ragazzi Cliccate Poi andate su free E in basso ragazzi vi spunta il server canadese ragazzi Quindi cliccate Canada Aspettiamo che si connette il server Ok Pubblicità Ok dopo averlo connesso il server ragazzi dovete andare su Play Store Ok Cercate Rush Wars Ed ecco a voi il vostro gioco ragazzi Rush Wars Vi raccomando ragazzi per questo video vi chiedo un bel like Che è una bellissima iscrizione E una bellissima condivisione Del vostro caro d'arche è tutto Ci si becca nel prossimo video Ciao bomber Buon potere Ciao